in questo video introdurremo le variabili di cattura poi vedremo come creare dei gruppi di non cattura proseguiremo poi con i gruppi di cattura nominativi per poi terminare in bellezza scoprendo le variabili di matching automatiche buona visione come ormai spero ben sappiamo quando si utilizzano i gruppi di cattura vengono creati per ogni corrispondenza i relativi back reference richiamando un back reference riutilizziamo la sequenza con cui abbiamo trovato precedentemente corrispondenza quindi nell'esempio perché si trova corrispondenza con dodo perché la sequenza che abbiamo composto trova corrispondenza con i primi due caratteri della stringa in questo caso i caratteri di o e poi richiamando il back reference del gruppo di cattura 1 quindi l'unico gruppo di cattura che abbiamo creato si va a ripescare la sequenza contenuta al suo interno andando così a comporre la sequenza dodo e trovando infine corrispondenza ho voluto rinfrescarvi la memoria poiché l'argomento che stiamo per affrontare ovvero le variabili di cattura si avvalgono dello stesso meccanismo di memorizzazione utilizzato dai back reference infatti le sequenze che memorizzano i gruppi di cattura sono in fin dei conti delle semplici stringhe e in quanto tali possono essere tranquillamente memorizzate all'interno di variabili e riutilizzate nel nostro programma il perl per memorizzare queste sequenze utilizza le variabili di cattura le variabili di cattura come abbiamo detto sfruttano il solito meccanismo di memorizzazione dei back reference sono quindi composte dalla keyword dollaro poiché si tratta per l'appunto di variabili più id numerico progressivo del gruppo di cattura nell'esempio si prova a stampare in output il contenuto della variabile di cattura 1 quindi relativa al gruppo di cattura 1 e infatti abbiamo prima la stringa corrispondenza trovata poi il contenuto della variabile di cattura 1 quindi la stringa do ed infine stampando per due volte la variabile di cattura 1 otteniamo in questo caso la sequenza utilizzata per il matching ovvero dodo altro esempio nello script si cerca corrispondenza con il gruppo di cattura 1 contenente la sequenza doppia m poi qualsiasi carattere ad eccezione del newline e successivamente con il gruppo di cattura 2 contenente la sequenza doppia l se eseguiamo lo script abbiamo come previsto corrispondenza trovata poiché trova corrispondenza con la parte della stringa doppia m e doppia l inoltre come vedete si stampa in output il contenuto dei gruppi di cattura 1 e 2 utilizzando le relative variabili di cattura quindi stampando in output il contenuto della variabile di cattura 1 abbiamo in output doppia m mentre stampando in output il contenuto della variabile di cattura 2 abbiamo invece in output doppia l le variabili di cattura inoltre preservano il loro valore fino alla loro sovrascrittura nell'esempio cosa si fa si cerca corrispondenza con la stringa porpora contenuta nella variabile parola e la sequenza or poi cosa succede si utilizza la variabile di cattura 1 corrispondente al gruppo di cattura 1 che contiene quindi la sequenza or aggiungendo la stringa orologio per stampare in output la stringa orologio infatti se eseguiamo lo script abbiamo in output corrispondenza trovata poi il contenuto della variabile di cattura 1 quindi or ed infine la stringa orologio che abbiamo creato concatenando la variabile di cattura 1 con la stringa orologio guardate un po' però cosa succede in una situazione del genere all'interno del nostro script effettuiamo due operazioni di matching sulla variabile parola nella prima si cerca corrispondenza con la sequenza or e nella seconda con la sequenza ra utilizzando in entrambi i casi un gruppo di cattura per memorizzare la corrispondenza e se eseguiamo lo script abbiamo come risultato finale ra orologio come mai analizziamo passo per passo l'output del nostro script nella prima operazione di matching si cerca corrispondenza con la sequenza or viene trovata corrispondenza e nella variabile di cattura 1 come potete vedere viene quindi inserita la stringa or nella seconda operazione di matching si cerca nuovamente corrispondenza solo che a questo giro la sequenza da trovare è ra quindi cosa succede avendo utilizzato anche in questo caso un gruppo di cattura per memorizzare la sequenza essa viene trovata e inserita nella variabile di cattura 1 andando quindi a sovrascriverne il contenuto al momento della stampa abbiamo dunque in output ra orologio poiché con la seconda operazione di matching siamo andati a sovrascrivere il valore della variabile di cattura 1 è inoltre importante sapere che le variabili di cattura sono variabili read only questo vuol dire che non è possibile utilizzarle nelle operazioni di assegnazione nell'esempio si tenta di assegnare alla variabile di cattura 1 la stringa ciao e di stamparla successivamente in output ma guardate un po cosa succede se si esegue lo script abbiamo in output questo errore che ci avvisa che abbiamo tentato di modificare il valore di una variabile read only alla riga 4 ovviamente la variabile a cui fa riferimento è la variabile di cattura 1 queste variabili sono infatti riservate per memorizzare le sequenze di matching delle espressioni regolari e solamente il regex engine del perl ovvero il motore delle espressioni regolari del linguaggio può accedervi in scrittura noi in quanto programmatori possiamo solamente leggerne il contenuto la possibilità di memorizzare le sequenze utilizzando i gruppi di cattura è senza ombra di dubbio una feature interessante e particolarmente utile in determinate situazioni però tuttavia può talvolta causarci dei problemi nell'esempio si cerca corrispondenza con la stringa contenuta nella variabile frase e la sequenza composta dal gruppo di cattura opzionale 1 che può contenere la sequenza hamburger o wurstel poi almeno un carattere ad eccezione del new line ed infine il gruppo di cattura 2 che contiene la sequenza pollo il nostro obiettivo è quello di riuscire a stampare in ogni caso l'ordinazione di gianni senza toccare la variabile di cattura 1 quindi nel caso che la stringa contenuta nella variabile frase sia hamburger di pollo o wurstel di pollo dovremo avere in output gianni vuole un hamburger o un wurstel a seconda dei casi nel caso però che non si trovi corrispondenza né con hamburger né con wurstel dovremo avere ugualmente in output la stringa gianni vuole un pollo ora se si esegue lo script abbiamo in output gianni vuole un hamburger poiché il gruppo di cattura 1 riesce a trovare corrispondenza con la sequenza hamburger quindi tutto a posto però attenzione perché il gruppo di cattura 1 è opzionale quindi tecnicamente si può trovare corrispondenza pure in questo caso e infatti se si esegue lo script abbiamo in output uno warning che ci avvisa che la variabile di cattura 1 non è stata inizializzata e successivamente troviamo la stringa gianni vuole un e poi il nulla poiché come abbiamo detto la variabile di cattura 1 non è stata inizializzata cosa è successo quindi anche se opzionale il gruppo di cattura 1 utilizza ugualmente la variabile di cattura 1 ma non trovando alcuna corrispondenza non le assegna ovviamente alcun valore quindi per stampare gianni vuole un pollo dovremo obbligatoriamente utilizzare la variabile di cattura 2 poiché il gruppo di cattura 2 riesce a trovare corrispondenza con la sequenza pollo se infatti si sostituisce la variabile di cattura 1 con la variabile di cattura 2 e si riesegue lo script abbiamo in output gianni vuole un pollo ma noi dobbiamo riuscire a stampare in output gianni vuole un pollo utilizzando la variabile di cattura 1 il problema dove sta sta nel fatto che il gruppo opzionale di cattura 1 utilizza anche in caso di non corrispondenza la variabile di cattura 1 facendo quindi slittare la sequenza pollo che invece viene trovata con successo nella variabile di cattura 2 e lasciando quindi il povero gianni senza ordinazione bel problema è ma fortunatamente possiamo risolverlo facilmente è infatti possibile creare dei gruppi di non cattura ovvero gruppi che riescono comunque a raggruppare delle sequenze ma senza memorizzarle per creare un gruppo di non cattura basta utilizzare la forma punto interrogativo due punti subito dopo la parentesi di apertura per poi proseguire specificando la nostra sequenza come abbiamo sempre fatto in questo modo non essendo quindi considerato gruppo di cattura bensì gruppo di non cattura il primo gruppo di cattura che troviamo è quello che contiene la sequenza pollo quindi richiamando la variabile di cattura 1 al momento della stampa otteniamo in output gianni vuole un pollo poiché si va a ripescare la sequenza contenuta nel gruppo di cattura 1 missione compiuta e buon appetito gianni abbiamo visto quindi come catturare delle sequenze di caratteri utilizzando i gruppi di cattura e come richiamarli successivamente all'interno dei nostri script tramite le relative variabili di cattura c'è però da dire che in alcuni casi memorizzare gli id di tutti i gruppi di cattura utilizzati all'interno di un'espressione regolare può essere un problema soprattutto se ne abbiamo creati un bel po come nell'esempio l'obiettivo dello script è quello di stampare in output i nomi Mario Luigi e Todd e infatti funziona tutto poiché si va a ripescare le sequenze catturate dai gruppi di cattura 1 3 e 7 il gruppo di cattura 1 contiene Mario il gruppo di cattura 3 contiene Luigi e il gruppo di cattura 7 contiene Todd però in una situazione ingarbugliata come questa è facile sbagliarsi nel contare i gruppi di cattura sarebbe infinitamente più comodo riuscire ad assegnare un nominativo ai gruppi di cattura che ci interessano per poi richiamarli utilizzando il nome che gli abbiamo assegnato ebbene rallegratevi perché tutto ciò si può fare utilizzando i gruppi di cattura nominativi per creare un gruppo di cattura nominativo si deve aggiungere dopo la parentesi di apertura la forma punto interrogativo e poi tra parentesi angolari va inserito il nome che vogliamo assegnare al nostro gruppo di cattura nell'esempio ho creato tre gruppi di cattura nominativi chiamati rispettivamente nome 1 nome 2 e nome 3 nome 1 troverà corrispondenza con Mario nome 2 troverà corrispondenza con Luigi e nome 3 troverà corrispondenza con Todd per richiamarli si usa la forma dollaro più nominativo del gruppo tra parentesi graffe e se rieseguiamo lo script vengono infatti stampati con successo Mario, Luigi e Todd attenzione però perché i gruppi di cattura nominativi vengono considerati dal Regex Engine come normalissimi gruppi di cattura quindi in quanto tali si avvalgono del medesimo sistema di memorizzazione come vedete se si stampano le variabili di cattura 1, 3 e 7 abbiamo ugualmente in output Mario, Luigi e Todd prima di salutarci volevo parlarvi delle variabili di matching automatico le variabili di matching automatico sono tre variabili particolari nelle quali vengono inserite tre parti precise della stringa che abbiamo utilizzato nell'operazione di matching esiste infatti la variabile di match chiamata dollaro più e commerciale nella quale viene inserita la parte esatta della stringa dove viene trovata corrispondenza troviamo poi la variabile di pre match chiamata dollaro più accento grave che contiene invece la parte precedente alla corrispondenza ed infine abbiamo la variabile di post match chiamata dollaro più apostrofo che contiene la parte della stringa successiva alla corrispondenza se eseguiamo lo script abbiamo in output tutti virgola stampato dalla variabile di match poi ciao a stampato dalla variabile di pre match ed infine come va stampato dalla variabile di post match ricapitolando la variabile di match corrisponde alla parte esatta della stringa dove viene trovata corrispondenza la variabile di pre match corrisponde alla parte della stringa precedente alla corrispondenza ed infine la variabile di post match corrisponde alla parte della stringa successiva alla corrispondenza seppur non si tratti di grosse perdite in termini di efficienza sappiate però che utilizzando queste variabili speciali andrete a rallentare un po' la velocità di valutazione delle vostre espressioni regolari è possibile comunque risolvere questo problema di performance utilizzando il modificatore P il modificatore P ci mette a disposizione altre tre variabili speciali di matching equivalenti in tutto e per tutta a quelle che abbiamo appena visto il cui utilizzo però non comporta alcuna perdita prestazionale nell'esempio dopo aver aggiunto il modificatore P alla nostra espressione regolare si sostituisce le variabili di matching con quelle che ci mette a disposizione il modificatore fortunatamente anche la loro forma è assai più umana per utilizzarle basta infatti usare la forma dollaro poi aprire le parentesi graffe inserire l'accento circonflesso ed infine specificare tramite keyword match pre match o post match quale parte della stringa andare a ripescare rieseguiamo lo script e abbiamo infatti il solito risultato in output con il valore aggiunto di non aver intaccato minimamente le performance del nostro script molto meglio e detto questo concludo qua la lezione potete trovare come al solito il link degli esercizi in descrizione mentre per qualsiasi dubbio o domanda rinnovo il mio invito a lasciare un commento un saluto a tutti e a risentirci grazie a tutti